La vicenda Euro-Tintoria si chiude con il lieto fine. Questa mattina in provincia è stato firmato l'accordo per la cassa integrazione straordinaria per tutti gli 81 dipendenti di questa storica attività del distretto pratese che chiude i battenti. Un esito tutt'altro che scontato, solo fino a pochi giorni fa gli operai rischiavano di finire a casa perdendo un anno di cassa integrazione e dimezzando la mobilità a causa dell'apertura della procedura a gennaio anziché entro la fine del 2014. A dicembre infatti l'azienda ha annunciato un taglio del personale senza palesare la presenza di un compromesso per la vendita del capannone e dunque la volontà di cessare l'attività. Tutto questo nell'indifferenza generale. Poi numerosi appelli lanciati dai sindacati affinché intervenissero le istituzioni cittadine hanno cambiato il finale di questa triste storia. Primo l'incontro tra una delegazione di operai e il sindaco, poi l'intervento del vescovo Agostinelli. La proprietà di Euro-Tintoria, dopo una lunga trattativa, ha quindi accettato di presentare richiesta di cassa integrazione per cessazione e attività. Avrà durata di un anno e partirà da domani. Stamani l'accordo, siglato da Federico Barmi in qualità di liquidatore della società Euro-Tintoria S.P.A. A nome dei sindacati, Massimiliano Brezzo, segretario della Filtem CGL, parla di vittoria della città. Io penso che sia stata una soluzione corale e una battaglia corale della città che ha portato a un bel risultato, riportare indietro le lancette dell'orologio a un mese e mezzo fa. È una pagina molto brutta al momento dell'apertura, ritorno a una pagina normale al momento della chiusura. La difficoltà è stata riportarla ad essere una pagina normale. Nel frattempo, nella sede di Via delle Fonti, prosegue lo smontaggio dei macchinari per liberare al più presto l'immobile venduto ad un'altra azienda, il cui nome al momento è Top Secret. Credo che anche per il distretto tutto si sia ristabilita una condizione importante, di lavoro importante di quelle che abbiamo conosciuto in questi anni e che devono regolare anche nei momenti difficili le relazioni tra imprenditori, sindacati e dipendenti.